Autosfondo al guardrail e vora giù dal ponte, miracolati due ragazzi a bordo che si stavano recando a scuola. È iniziata la raccolta dei pacchi con i medicinali donati nelle farmacie di Aset S.P.A. Grande solidarietà anche dalle aziende del territorio per il popolo bombardato. Sarà il CB Club Mattei a trasportarli a destinazione, intanto salgano 200 i profughi ospitati in provincia di cui 52 nel Fanese. Caro Carburanti, Confcommercio Marche Nord torna a chiedere interventi urgenti sull'IVA e il taglio delle accese. L'autotrasporto rischia conseguenze disastrose. Domani si riunisce la conferenza Stato-Regione. Un quartiere lasciato all'abbandono e al degrado. Residenti, operatori e partiti locali tornano a chiedere interventi sul quartiere di Fano 2. L'assessore Brunori assicura per giugno saremo pronti per riqualificare la piazza e la fontana. Tutti in divisa e in fila per donare. La grande solidarietà e il senso civico delle forze dell'ordine oggi al centro traspusionale di Fano per l'iniziativa organizzata da Avis. Guardiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai nostri titoli. Ne sono usciti illesi due ragazze a bordo di una Fiat Panda finita prima contro un guardrail e poi nell'agreto di un fiume facendo un volo di circa 10 metri. È successo questa mattina intorno alle 8 in località Torricella nel comune di Frontone. Alla guida dell'auto c'era un 19enne neopatentato che viaggiava insieme ad una 18enne. I due si stavano recando a scuola a Pergola quando il conducente ha perso il controllo del mezzo dopo una sbandata in curva forse a causa del ghiaccio. Nonostante lo spavento i due che abitano ad un chilometro da quel ponte non hanno mai perso conoscenza. Sono usciti dall'auto e hanno chiamato i soccorsi. Il 118 li ha trasportati all'ospedale di Urbino per alcuni accertamenti, mentre i vigili del fuoco di Cagli con un autogru del comando di Pesaro hanno recuperato il veicolo. Sul posto anche i carabinieri. Questa mattina è iniziata la raccolta dei medicinali acquistati per l'Ucraina nelle farmacie di Aset S.p.a. La prossima settimana il CB Club Mattei partirà con un camion alla volta della Polonia per consegnare i farmaci da trasportare poi alle popolazioni colpite. Pacchi pieni di medicinali e speranza pronti per essere consegnati. Si è conclusa ieri la campagna promossa da Aset S.p.a. iniziata lo scorso 3 marzo per la raccolta di prodotti farmaceutici da indieri in Ucraina. Garze, bende, cerotti, tachipirine, sciroppo per la tosse e integratori. Sono stati centinaia i medicinali già caricati sul camion che questa mattina ha fatto tappa a Sant'Orso. Grazie all'iniziativa benefica fortemente voluta dalla società dei servizi per ogni prodotto di primo soccorso che i clienti hanno donato le farmacie comunali ne hanno aggiunto uno identico raddoppiando di fatto la donazione. Come amministrazione abbiamo fatto una cabina di regia cercando di concentrare e di raccogliere cose che realmente occorrono per non disperdere energie consapevoli che la crisi non sarà una cosa veloce e le esigenze ci saranno anche nei giorni a venire. Queste siamo in una fase ancora non partono di una fase di raccolta Aset questa è la raccolta della prima farmacia ma ci sono tutte le altre ha raddoppiato ogni acquisto che un cittadino o aziende e devo dire anche diverse aziende hanno aderito acquistando di medicinali che Aset ha raddoppiato. Quindi c'è il Rotary di Urbino sono diverse anche organizzazioni che hanno aderito. In questa fase stiamo raccogliendo stoccando per poi avere tutte le autorizzazioni e grazie alla protezione civile che non dimentichiamo insieme a noi si sono adoperate e prestati perché non è un'iniziativa della protezione civile nazionale ma è la nostra che dà una risposta ad una sensibilità ad una solidarietà che la città e il territorio stanno esprimendo. Domani proseguirà la raccolta dei pacchi nelle varie farmacie poi non appena sarà tutto pronto i volontari del Cibi Club Mattei percorreranno 1600 chilometri per raggiungere Zamos con una città della Polonia sudorientale dove ad attenderli ci saranno i referenti del Rotary che successivamente attraverso i loro canali provvederanno a portarli in Ucraina. Ancora stiamo rendi contando tutto quello che è stato raccolto in tutte le farmacie perché è stata attivata in tutte le farmacie comunali quindi da Marotta a Cantiano a Piagge, le 4 di Fano e tutto il resto quindi stiamo rendi contando questo. Siamo rimasti subito estremamente soddisfatti in primo luogo dalla partecipazione dei farmacisti che non dobbiamo dimenticare per loro questo è stato un ulteriore sforzo se vogliamo chiamarlo così però parliamo di una categoria che è due anni che sono veramente continuamente in emergenza. Quello che vedete qui dietro è una minima parte ma è una minima parte non solo del tutto perché ancora dobbiamo avere un quadro di quello che è successo nell'altra farmacia ma addirittura anche della farmacia stessa qui di Sant'Orso perché ad esempio per molto materiale che l'ASET ha acquistato dai fornitori ancora non c'è la disponibilità quindi avremo a mano a mano anche nei prossimi giorni altro materiale che arriverà a mano a mano che ci sarà la disponibilità nei magazzini e quindi nei vari insomma punti da cui noi ci serviamo. Speriamo che questa emergenza finisca come finisca chiaramente la guerra e questo stato di barbarie che perdura ormai da più di dieci giorni. Per il futuro ci rendiamo conto che il periodo è stato un periodo estremamente breve e abbiamo visto che questa cosa funziona se poi non sia mai ci fosse bisogno di qualcos'altro penso che la stessa sensibilità che abbiamo dimostrato fino ad oggi la dimostreremo anche in seguito. Sono 52 in totale i profughi ucraini ospitati nel comune di Fano nel frattempo aumenta anche il numero delle persone che offrono alloggi e servizi per i rifugiati. Non si ferma la macchina della solidarietà per raccogliere aiuti ed ospitare chi sta scappando dalla guerra. Ad oggi sono circa 200 i profughi presenti nella provincia di Pesare Urbino di cui 52 a Fano suddivisi tra Villa San Biagio, Opera Don Orione e le abitazioni private. Quasi la metà dei rifugiati, 25 in totale, sono minorenni. Questi numeri però sono destinati ad aumentare così come quello delle persone pronte ad accogliere il popolo ucraino. L'ambito sociale 6 in base ai dati registrati stamattina ha raccolto 60 disponibilità di vitto e alloggio che vanno ad aggiungersi a quelle di enti del terzo settore come Caritas e Opera Padre Pio. Altra offerta invece riguardano donazioni di materiale vario e servizi di inclusione sociale e sostegno psicologico. Credo che sia già un segnale importante. Cerchiamo di convogliare, di coordinare con gli enti del terzo settore, tutta questa generosità, questo spirito di solidarietà che la nostra comunità sta dimostrando. Lo stiamo facendo, domani avremo il tavolo dell'immigrazione, cercando di mettere insieme tutti gli enti del terzo settore che su questo sono attivi e operativi tramite un accordo di collaborazione e poi un patto di sussiderietà in cui sarà precisato ciò che fa ognuno e chiaramente anche i compiti, servizi, interventi che metteremo a disposizione soprattutto perché si tratta comunque di famiglie, di nuclei familiari in cui sono presenti anche dei minori, quindi con servizi di inclusione, interventi linguistici, di aggregazione e quant'altro. Ecco, il cuore, il grande cuore di questa comunità cerchiamo di unirlo alla testa e quindi a un coordinamento, a un'organizzazione che dia interventi e servizi efficaci di accoglienza che possa davvero essere funzionale per coloro che vengono qua dopo essere usciti da una tragedia come quella che appunto vediamo tutti i giorni in televisione. E le ricadute economiche della crisi ucraina sono state al centro dell'incontro del presidente della regione Francesco Acquaroli del Vice Mirko Carloni con una delegazione di Confindustria Marche. La guerra hanno ribadito non solo stravolge gli equilibri politici, economici e sociali ma influenza negativamente anche l'economia delle marche. Inoltre una speculazione sui costi dell'energia sta mettendo in ginocchio le imprese che rischiano di pagare la crisi pesantemente. Già domani verranno affrontate le prime misure nazionali da mettere in campo nell'ambito della Commissione Sviluppo Economico, della Conferenza delle Regioni e della Riunione della Stato-Regioni. Stiamo raccogliendo, hanno anticipato Acquaroli e Carloni, le varie stanze delle imprese e delle categorie economiche, da presentare in un successivo incontro con il commissario della Task Force per la crisi ucraina, Amedeo Tenti, nominato dal governo. E' forte anche il grido di allarme di Confcommercio Marche Nord che ormai dà un mese in prima linea per richiedere interventi urgenti a sostegno delle imprese che stanno studendo gravissime conseguenze per il caro energia. Con il conflitto in corso in Ucraina, hanno spiegato il direttore Varotti e la vice Agnese Trufelli, per l'autotrasporto si rischia sul piano del carburante una maggiore spesa annua di 21 miliardi. Il sistema del trasporto e della logistica è cruciale per il paese. Le conseguenze sarebbero disastrose per un comparto che trasporta l'80% delle merci. Chiare le richieste, bene il decreto bollette, hanno dichiarato, è necessario però agire sul carico fiscale del settore. Serve un intervento temporaneo sull'IVA e poi un taglio alle accise. Inoltre il governo deve emanare un provvedimento sulla possibilità di introdurre contratti in base all'incidenza dei costi dei carburanti. Siamo in grande emergenza, hanno concluso, bisogna agire in fretta. Cambiamo argomento e ci occupiamo del quartiere di Fano 2, dove residenti, operatori e partiti locali tornano a chiedere un intervento di riqualificazione dalla fontana alle isole ecologiche, fino ai parcheggi e alla mancanza di strutture per la socialità. Sono diversi i lavori richiesti ormai da anni. Dimenticato ed abbandonato, lo definiscono così i residenti di Fano 2, il loro quartiere che ormai da diverso tempo mostra i segni del degrado e della non curanza da parte dell'amministrazione comunale. Tra i temi più accesi la riqualificazione della fontana di piazza Capuana, come anche l'area verde, spazi per i giovani ed infine la richiesta di più controlli. È un quartiere come altri di Fano lasciato all'abbandono, al degrado. Qui si può vedere la fontana come ridotta. Nel comunicato che avevamo fatto nei mesi scorsi avevamo denunciato questa situazione, ma nulla è cambiato rispetto allo scorso agosto. Questo si aggiunge anche alle isole ecologiche, che sono traboccanti di rifiuti. La mancanza totale di strutture di tipo sportivo o ricreativo, tant'è vero che in questa stessa piazza i ragazzi o i bambini sono costretti a giocare a pallone qui. È stato fatto uno sgambatoio, almeno così lo chiamano, ma non ha risolto neanche quel problema, perché comunque ci sono escrementi di cani dappertutto. Sicuramente la riqualificazione della piazza permetterà alle persone che abitano in questo quartiere di vivere meglio il posto. Gli stessi residenti chiedono, ascoltando le parole, facendo due chiacchiere con persone che abitano nel posto, di poter utilizzare degli spazi attualmente trascurati, tipo quelli che sono dietro la chiesa, addibirli a parcheggio oppure riaprire la vecchia strada che è stata chiusa per poter circolare meglio con i propri veicoli. Da residente che cosa vorrebbe riqualificare? La fontana che è spenta da un po' di anni e poi è anche molto mal ridotta e anche il parco vicino alla chiesa che ormai i giochi sono tutti rotti praticamente e quindi un po' in degrado fanno due su questo aspetto, se no è un bel quartiere. Se si aggiustano queste cosine almeno... I giovani potrebbero ritornare a vivere il quartiere? Sì esatto. Mi piacerebbe anzitutto che il quartiere fosse riqualificato a dovere come meritano i residenti perché qui è un gran bel quartiere, direi che è il quartiere migliore di Fano a mio modo, ma non solo la fontana, anche il verde qui, lo stesso parco là davanti, l'erba bisogna ribattellarla più spesso, lo stesso sgambatoio, sì Lola, lo stesso sgambatoio, addirittura l'illuminazione, io vedo girando col cane e vedo che ci sono le luci che non sono proprio funzionanti, insomma dovrebbe essere... ci dovrebbe essere più attenzione dalla parte del magistrato, non perché si è amministrato male, per l'amor di Dio, però con più attenzione sarebbe meglio. Dopo queste richieste abbiamo sentito l'assessore al decoro urbano che ha assicurato interventi sulla piazza Fontana comprese, i lavori potrebbero iniziare già tra pochi mesi. Per giugno saremo pronti anche con la bonifica di quello che è la fontana di piazza Capuana presso Fano 2, dove appunto sarà prevista una fioriera e dei nuovi arredi sulla piazza di fronte alla chiesa che a gran voce il quartiere ci chiede per rendere ancor più vivibile quel luogo. Sposteremo le attuali panchine nell'area verde e nell'area verde cercheremo di ripristinare anche tutto quello che è la seduta in calcestruzzo che oggi è ammalorata, ha una parte di legno deteriorata e anche tutta la parte sottostante. Sicuramente coinvolgeremo anche il quartiere nel rifacimento proprio di street art e quindi per dare ancora maggior colore e vivacità a quel luogo in un secondo tempo a lavori avviati. Quindi aspettateci perché sarete coinvolti anche voi. Il capogruppo della Lega in Consiglio Comunale Gianluca e Ilari denunce invece lo stato di degrado del parco giochi di via Munfalcone a Centinarola di Fano. Il terreno non riceve più l'acqua causando continui allagamenti, la scarsa illuminazione notturna e la pericolosità per l'assenza di una recinzione fanno sì che il più grande luogo di socialità del quartiere abbia raggiunto, ha detto Ilari, condizioni inaccettabili. Ad aggravare la situazione i bivacchi della scorsa notte con rifiuti di ogni genere lasciati a terra che hanno completato il quadro a cui è necessario porre il rimedio. Ilari poi ha ricordato le promesse fatte in un incontro pubblico dell'amministrazione comunale, tra queste una siepe che facesse da confine tra il parco e via Munfalcone entro marzo. È giunta l'ora di passare dalle parole ai fatti a concluso Ilari, soprattutto di riqualificare l'area prevedendo anche l'installazione delle telecamere. Ad è stato curiosità oggi la grande presenza delle forze dell'ordine all'ospedale di Fano. In realtà uomini e donne in divisa si sono recati al centro trasfusionale per donare sangue o plasma e nell'ambito di una giornata a loro dedicati organizzata da Avis. Tra gli agenti di polizia c'è anche chi ha all'attivo più di 100 donazioni. Sentite. Questa mattina i corridoi del Santa Croce di Fano sono stati attraversati dalle forze dell'ordine ma son di solidarietà. Poliziotti, vigili urbani e militari della Guardia Costiera hanno teso il loro braccio per donare amore, vita e speranza. Chi con il sangue e chi con il plasma ognuno ha dato il suo contributo e sono state tante le persone in divisa accolte al centro trasfusionale che non sono volute mancare all'iniziativa organizzata da Avis Fano. Un dono in sicurezza è il titolo di questo Donor Day dedicato alle forze dell'ordine, iniziativa che si ripeterà anche tra due settimane. Sì, indubbiamente si ripeterà perché comunque vogliamo dare un segnale molto importante di presenza nel territorio dialogando con tutte le istituzioni, con tutti i gruppi sportivi, con le scuole. Ci incontriamo soprattutto con i giovani, cioè noi puntiamo fondamentalmente sui giovani per gli stili di vita. Fra poco saranno loro a presentarci dei bozzetti per una rotatoria dedicata all'Avis e questo sarà un grande momento di collaborazione con le scuole. Comandante, un contributo sociale e umano dal forte senso civico? Sì, la Polizia Locale si caratterizza proprio per svolgere servizio in ambito del territorio comunale e per la vicinanza alla collettività con la quale quotidianamente siamo in contatto. I principi e i valori in base al quale svolgiamo la nostra attività ben sono in linea con le donazioni, come segno proprio tangibile anche di quel valore di solidarietà. Non a caso, già con l'attuale Presidente, abbiamo concordato un incontro presso la nostra sede per il prossimo 15 marzo perché già vantiamo dei donatori all'interno del comando, ma vogliamo estenderli anche in virtù delle recenti assunzioni che abbiamo avuto presso il nostro comando. Per questo abbiamo organizzato un incontro suddiviso tra mattino e pomeriggio per consentire la più ampia partecipazione di tutti. E chiudo proprio con questa puntina di orgoglio, se mi concedete, di essere la comandante di un corpo che già al suo interno vanta diversi donatori che qui pubblicamente ringrazio e sono certa che dopo l'incontro altri se ne aggiungeranno. Se posso chiedere, lei quante donazioni ha fatto? Ah, ahimè, abbastanza, anzi senza ahimè, per fortuna ne ho fatte tante, 119. Ho cominciato a 18 anni, qualche giorno fa, e sono stato sempre abbastanza bene ringraziando Dio e quindi ho potuto donare sempre. Sono felice di questa cosa. Quindi fino a quando potrà, lei continuerà a donare? Certamente, certamente. Che cosa l'aveva spinta? Ma io andavo a scuola e è venuto l'allora primario dell'Avis e nello scherzo della scuola in Aula Magna ha fatto proselitismo e con i miei amici ancora siamo sparsi per l'Italia, ma doniamo tutti insomma. Si dona agli altri ma anche a se stessi. Che cosa si sente, come si sente dopo la donazione? La donazione è un atto meraviglioso, è un atto di disponibilità verso gli altri, da un punto di vista etico, sociale, religioso, filosofico. Da qualsiasi punto di vista uno possa avere il proprio cuore, anche dal punto di vista del mio lavoro, come appartenente alla Polizia di Stato. E poi siamo controllati, siamo seguiti. L'Avis è una famiglia, cioè siamo veramente cuccolati dall'Avis. Questo è molto bello. Comandante, è la prima volta che dona qua a Santa Croce? No, in realtà sono già donatore di sangue, anche nella mia precedente esperienza di servizio in Sardegna già donavo il sangue e anche qui a Fano ho voluto continuare sul solco della mia precedente esperienza da donatore. Che cosa l'ha spinta all'inizio a prendere questa decisione? La donazione è un gesto di grande amore e solidarietà. Quindi sicuramente la Guardia Costiera, assieme poi agli altri colleghi amici delle Forze dell'Ordine e delle Forze Armate, si fa promotrice di questo valore di solidarietà, di altruismo. Ed è proprio attraverso questi valori che la nostra attività quotidianamente viene svolta. Quindi io ringrazio per questo gesto e per questa occasione sia i medici volontari e il Presidente di Avis Fano per questa importante opportunità al servizio della collettività. Dottore, un lavoro che non si è mai fermato anche in questi ultimi due anni così difficili? No, assolutamente no. Due anni difficilissimi, ma le Avis hanno sempre collaborato. Abbiamo avuto sempre sangue a sufficienza. Ovviamente c'è stato un lieve calo, ma è un calo fisiologico dovuto ai positivi, alle quarantene, a tutto quello che è successo. Ma l'Avis di Pesor, l'Avis di Fano hanno collaborato assolutamente, soprattutto per la produzione di plasma iperimmune, che è servito e ne abbiamo prodotto tanto. E poi plasma non abbiamo mai avuto carenza e sangue non abbiamo mai avuto carenza. Di conseguenza dobbiamo solo ringraziarli. Oggi è una giornata particolarissima, le forze dell'ordine, ma diciamo che queste si susseguono. Non ci sono solo le forze dell'ordine. Hanno partecipato tutti, ci sono richieste continue, i donatori nuovi stanno arrivando, ma ovviamente noi non ci accontentiamo mai, questo è evidente. Però il ringraziamento, la collaborazione, tutto quello che hanno fatto va assolutamente concesso. Incidente tra auto e motorino oggi in via le 12 settembre a Fano. Una donna di 52 anni, residente a Mondolfo, stava viaggiando a bordo di una Opel e quando si è dovuta fermare per cause legate alla circolazione, è stata tamponata da uno scooter condotto da un fanese di 17 anni. Il giovane, che per l'impatto è caduto a terra, è stato trasportato al pronto soccorso di Fano, sul posto la polizia locale per i rilievi di legge. È partita da Fano l'idea di un menù ecologico a base di legumi e verdure che domani verrà servito in decine di mense scolassiche e universitari e aziendali per un totale di 330 mila pasti. Pasta al pesto di verdura bianca, polpette di lenticchie in umido e crudite di carote e cavolo cappuccio viola. È questo il menù amico del pianeta che domani verrà servito a più di 130 mila bambini e bambine di tutta Italia. A presentare la proposta, poi accolta dall'associazione Food Insider e da decine di comuni italiani, è stata Fano che ormai da anni ha avviato un percorso per promuovere pratiche e azioni a basso impatto ambientale con un servizio di riflessione scolastica che rappresenta un'eccellenza. Ora questa nuova iniziativa che si inserisce nell'ambito della Green Food Week ha ottenuto più di 100 adesioni tra comuni, università e aziende. Un menù ecosostenibile a base di legumi, di verdura che sia utile non solo per quanto riguarda l'educazione alimentare ma anche insegnare l'importanza della sostenibilità dei prodotti alimentari sul nostro ecosistema. La risposta è stata molto grande, ci sono grandi comuni a partire da Roma ma anche Brescia, Bergamo, Rimini, Sesto Fiorentino, Cremona, Mantova che hanno aderito la proposta di Fano e saranno circa 330 mila i pasti con il menù di Fano che verranno proposti in giro per l'Italia in quella giornata. Ovviamente è una giornata dal forte valore simbolico che si ricollega tra l'altro a un'altra grande campagna che mi illumino di meno e ha l'obiettivo non solo di sensibilizzare in questo momento specifico il Paese su questo tema ma anche di quello di proporre in maniera strutturale a partire dal prossimo anno scolastico in tutti i comuni d'Italia che hanno fatto delle riflessioni scolastiche, dell'educazione alimentare, un loro elemento di eccellenza, un menù stabile, strutturale con queste caratteristiche. È una sfida grande che però un comune come Fano che in questi ultimi anni ha avuto molti importanti riconoscimenti proprio a livello nazionale per la qualità della sua riflessione scolastica ci siamo sentiti di proporlo e lo proponiamo quindi con molta convinzione e anche un pizzico di orgoglio. Le cose non si improvvisano e non arrivano per caso, ha poi aggiunto il primo cittadino che ha la delega, la città delle bambine e dei bambini. Nel corso della conferenza stampa Seri ha sottolineato le scelte e il percorso vincente portato avanti dall'amministrazione comunale. Tutto questo sta per due obiettivi, uno è quello della qualità e dell'offerta e dell'alimentazione sana per i nostri bambini. L'altra è l'attenzione all'ambiente, avere delle azioni che siano sostenibili con l'ambiente. Ci riempiamo sempre la bocca di grandi sfide, poi bisogna essere anche conseguenti e questa è un'azione importante e ci fa piacere che ci viene riconosciuta e Fano e Capofila di tutta una serie di città importanti del nostro paese che vanno da Bergamo a Roma a Parma e potrei continuare di tante eccellenze e questo gratifica ancora di più perché significa che tutte queste che sono eccellenze in questo settore riconoscono Fano come eccellenza sopra le altre. Si alza il sipario sulla terza fase della strategia di sviluppo urbano relativa alla fabbrica del Carnevale. L'appuntamento è per venerdì 11 marzo alle ore 17 nella sala verdi del Teatro della Fortuna. Durante l'incontro aperto al pubblico si entrerà nel cuore del progetto e verrà presentato il bando per la filiera dell'innovazione, cioè uno strumento di sostegno alle imprese locali per una nuova tipologia di carro allegorico, un punto d'incontro tra la lavorazione della cartapesta, la meccatronica e la robotica per la movimentazione dei carri. Inoltre da lunedì sono partiti i lavori per l'imponente riqualificazione dell'ex Sant'Arcangelo che ha trovato l'ispirazione dell'architetto Rota. L'obiettivo è quello di dar vita a uno spazio di sperimentazione legato al Carnevale e all'intrattenimento. Prima di chiudere vi annuncio che lunedì prossimo a Primo Cittadino ci sarà il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci. In questo cartello vedete tutti i numeri di riferimento. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi ricordo l'appuntamento di domani mattina alle 7 con Occhio ai giornali condotto da Massimo Foghetti. Arrivederci.